Papa Francesco ha annunciato che si recherà presto a visitare il Policlinico Gemelli e la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica a Roma. Dobbio Reggina Celi, tra i vari gruppi presenti, ha salutato l'associazione METER, che si batte contro l'abuso sui minori, ed ha salutato anche la Marcia per la Vita. Ha pregato poi per l'Ucraina affinché siano ristabilite pace e pacifica convivenza. Ha pregato per le migliaia di vittime della frana di questi giorni in Afghanistan. Prima della recita del Reggino Celi, Papa Francesco ha commentato l'odierno Vangelo, che racconta la vicenda dei due discepoli che sulla strada per Emmaus incontrano Gesù risorto. La strada di Emmaus, ha detto, diventa simbolo del nostro cammino di fede. La vita a volte ci ferisce e noi ce ne andiamo tristi, voltando le spalle al disegno di Dio, ma la Chiesa con Gesù riaccende nei nostri cuori il calore della fede e della speranza. Poi, nella liturgia eucaristica, Gesù ci dona a se stesso e ci riporta verso Gerusalemme, verso la comunità dei fratelli e la comunità degli uomini, dove vivere la condivisione e la missione. C'è sempre una parola di Dio, ha detto il Papa, che ci dà l'orientamento dopo i nostri sbandamenti, e attraverso le nostre stanchezze e delusioni c'è sempre un pane spezzato che ci fa andare avanti nel cammino.